Benvenuti, benvenuti, cari amici, siamo B di questo nuovo video, naturalmente come sempre ricordo di subito di like, di iscrivervi il canale, di iscrivervi anche nell'etagram, all'interno di questo video andremo a vedere quello che sta venendo su Bitcoin, ma soprattutto Ethereum sta letteralmente iniziando a dominare il mercato e da qui potrebbe essere appena iniziata quella famosa al season leggendaria. In noi travedo tantissime persone che sono letteralmente dominate dalle emozioni e per questo motivo ho deciso di iniziare a indossare quello che sarà un cappello, ok, che ho deciso di chiamare polizia dei sentimenti, cioè all'interno di questo mondo non ci devono essere emozioni, ci deve essere poca empatia e soprattutto bisogna essere freddi ed egoisti e per cui iniziamo subito. Per cui andiamo subito a vedere quello che è il prezzo di Bitcoin in questo preciso momento, 51.881 dollari, in sostanza siamo all'interno di una situazione in stallo, vediamo come sul settimanale si è andati a creare i nuovi massimi, si è andati a prendere praticamente la zona di 53.000 dollari e vedete più volte come secondo me la peggiore ipotesi potrebbe essere un retouch in zona. dei 48.000 dollari, per cui andremo a vedere se Bit, ok, riuscirà a rompere questa resistenza che al momento troviamo a 53.000 dollari, oppure cosa più salutare sarebbe nuovamente, occhio non scarico, ma in zona 48 per poi prendere e ripartire. In ogni caso io vedo Bitcoin in salute ma soprattutto le altcoins perché Ethereum che sta dominando, poi andrò a vedere anche la situazione su Ether, ma soprattutto per chi trada, ok, nel breve, se andiamo a vedere daily, poi andremo a vedere anche il 4 hour e il 1 hour. Vediamo che in questo momento abbiamo fatto un double bottom in zona 50.400 dollari, per cui ottima le action, secondo me potremmo andare a riprendere questa zona di 53.000 dollari e addirittura andare a rompere. Quello che mi aspetto a Bit è esattamente questo, con poi i retarget, ok, di zona dei 55.000 dollari. Un momento vedo qui nella resistenza, voglio mostrarvelo anche più in particolare sul weekly, ok. Anche se non escludo per l'appunto nuovamente prima, ma arrivamo le teste in zona 48, sarebbe super salutare per poi prendere e andare a rompere. Attenzione ragazzi perché in caso di rottura di 53 potremmo andare veloci, ok, verso la zona dei 59.000 dollari. Quindi attenzione perché zona 53 è di fondamentale importanza. Tra l'altro in Oteca Trade sembra che ogni scarico sia una valanga di opportunità. Quindi vedete anche qui su 4 ore vanno fatto 50.677 dollari, che si è andati a testare, double bottom, quindi io insomma vedo una bella action da parte di Bit che potrebbe arrivare molto molto presto. Confermato anche qui sul 1 hour, vedete qui addirittura triple bottom per poi prendere e andare letteralmente su. Inoltre ti ricordo la super live del 29 di febbraio ore 21 sul gaming, quindi assolutamente non mancare, solamente 100 post disponibili. La state già, ok, letteralmente prendendo da salto, pumpa, sbanca e scampa. Ti aspetto 29 febbraio ore 21, vai subito ad iscriverti, trovi sotto il link in descrizione. In più ti ricordo anche la super promo che dà in questo momento Binx, ok, vi ricordo uno oramai dei pochi exchange che ancora permette l'anonimato. E tra l'altro ci sono belle promo perché 50 dollari WSDT bonus andate a effettuare un deposito di almeno 50 dollari. Poi altri 50 dollari WSDT se andate a tradare almeno 20.000 dollari e altri 50 dollari WSDT se andate a tradare un totale di 50.000 dollari. Per cui ancora valida per 7 giorni 11 ore e 43 minuti. Dopodiché voglio andare a vedere la situazione del coin? La situazione del coin che secondo me sta, ok, letteralmente per esplodere. All season che io chiamo già da un po', ma insomma ci siamo. Guardate qui, 2017, 21, 24, 3 line discendenti in lungo periodo, ci siamo, siamo tutti pronti. Io aspetto Sky Rockets, ok, all'interno del gruppo Cowboy, stiamo già preparando tutto. Stiamo, ok, per mettere i fini in cascina, quindi insomma se vuoi scriverete anche tu all'interno del gruppo Cowboy, ti ricordo, col gratuita, vieni dentro, capiamo quelle che sono le tue esigenze, poi vediamo come strutturare, ok, letteralmente un piano. Abbiamo questo livello dei 41 che ci fa oramai da supporto, quindi insomma ci possiamo giocare questa bella zona. Soprattutto stiamo vedendo anche Ethereum che sta ripompando a manetta e voglio mostrarvi quella che è la situazione della Bitcoin Dominance, Bitcoin Dominance Trend, ok, di lungo periodo, dove le Litecoin vanno letteralmente a prendere forza, ok, sul Bitcoin. E in questa fase di mercato, secondo me appena inizio, appena inizio un rally, dove potremmo andare a ritestare sicuramente la zona di 50 e 72, ma addirittura potremmo andare più sotto, quindi almeno non sorprenderebbe che quando ci sarà piena il season arriveremo anche a livelli di 40%. Abbiamo già visto come Bit ha avuto tantissima forza nei confronti tra Litecoin, quindi insomma, dai miei punti di vista ci siamo. Dopodiché volevo mostrarvi ancora il dislivello tra Bitcoin e la Total 2, perché per l'appunto se le Litecoin andranno a seguire Bitcoin, sulla Total 2 dobbiamo raggiungere, ok, un livello di 1.27 trillions. In questo momento siamo a 888 miliardi, vediamo anche come il Gaussian Channel si stia appena attivando, quindi insomma ne abbiamo di strada da fare, addirittura c'è chi chiama la zona dei 3 trillions, barra 7 trillions, vedremo quello che sarà il target, ma insomma saranno bei anni, ok, questi che sicuramente ci ricorderemo quando saremo nuovamente poi in bear market, questa è un po' la mia idea. Dopodiché volevo mostrarvi anche quella che è la Total 2, in questo momento siamo a 907 miliardi, abbiamo rotto questa importantissima resistenza dei 878 miliardi, quindi dal mio punto di vista siamo inviati, ok, c'è la Total 2, quindi Ethereum dovrebbe fare tra le Skyrockets, Total 3 che deve ancora rompere, ok, quindi tantissime Alcoin devono esplodere, però l'abbiamo visto esplosione della I, però secondo me il clou, la maggior parte dell'altra Alcoin deve ancora andare a fare numeri, ok, questo è un po' il mio pensiero, e tra l'altro Total 3 voglio mostrarvi anche questa formazione di Double Bottom sui 524 miliardi, quindi insomma il bello deve, ancora letteralmente arrivare per quanto è guardato dal 3, questo è il mio pensiero. Dopo volevo mostrarvi anche quello che potrebbe avvenire su Ethereum, un Ethereum che ha letteralmente rotto, chi se lo ricorda, ok, c'eravamo già ad agosto di 2020, siamo bit, era già presente, aveva appena iniziato, però vedevamo un Ethereum a 200 dollari, oggi siamo a 3000 dollari, qualcosa di simile potrebbe avvenire, nel senso che Ethereum non andrà più a fare i famosi 50X, ok? Però può fare bei numeri, ok? Questa è la mia convinzione tematica, almeno 10.000 dollari possiamo andarle a prendere, è un Ethereum che sta spingendo, abbiamo rotto la zona dei 3000 dollari, in questo momento siamo a 3000 e 14 dollari, quindi secondo me è interessante anche per chi trada leva, soprattutto Ethereum, ok? In questa fase di mercato sta spingendo in confronto di Bitcoin. Poi voglio andare a vedere con voi l'alcoindex, per quanto riguarda gli ultimi 90 giorni siamo a 57, quindi insomma abbiamo possibilità, ok, di rispingere per quanto riguarda l'alcoin, ma soprattutto ve lo ricordo come sempre, sull'annuale se ancora scarichi. Siamo letteralmente a un livello di 24, un livello molto basso, siamo in piena Bitcoin season, quindi insomma il bello deve arrivare sull'alcoin, vediamo che sono pochi, ok, l'alcoin che finora hanno performato in confronto di Bit, nell'ultimo anno vediamo pochissime, Chainlink, BGB, insomma sono queste, ok? Per lo più, Intelligenza Artificiale, Say Network, BIM, insomma sono pochissime, ok? Giusto per darvi un termine di paragone. Dopoiché andiamo a vedere un settore che sta spingendo alla grande, che noi all'interno del gruppo cavo, insomma stiamo studiando altamente, ci siamo letteralmente dentro, che è quello dell'AI, tra l'altro io ti ricordo, ho fatto un concorso dell'AI, quindi se lo vuoi, prenota pure la tua call gratuita, perché lì veramente quest'estate c'erano prezzi di un terzo, ok, rispetto a quelli attuali, generalmente le AI hanno fatto un 3X, e vediamo, vabbè, Bitensor che sta facendo numeri pazzeschi, sono passati 600 dollari, Render 7.35 dollari, anche più 50% su settimanale, FET più 70%, veramente cose pazzesche, Agix più 120%, e comunque abbiamo iniziato a capitalizzare, capitalizziamo ancora poco, però stiamo iniziando a spingere, e secondo me, le AI devono ancora spingere, guardate qui, FET, comunque FET è in zona alta mai, quasi, quindi potrebbe rivenire sia la rottura, però poi non abbiamo più target, ok, giusto per dare un'idea, guardate qui, a novembre del 2022 stavamo a 600, FET, per darti un'idea, è già 20X, qualcosa di assurdo, quindi insomma, ma attendo uno scarico, comunque sia, ok, quindi vediamo un po', sarebbe salutare, render, stesso identico grafico, quindi anche qui, insomma, vediamo, la vedo difficile, che è di testare questa zona, i 3.33, ma lì un bel scarico, in zona 5.26, potrebbe essere buono, in ottica prossima bull market, ma soprattutto, volevo mostrarvi anche un altro settore, in particolare due settori, che se a me andranno a esplodere, primo, Meme Token, che però non hanno fatto niente, siamo a 22 miliardi, comunque capitalizziamo più, dell'intelligenza artificiale, però qua siamo letteralmente fermi, generalmente, sui principali, Meme Token, addirittura, meno il 90% da Uge Shiba, giusto per una idea, e soprattutto il gaming, perché, stiamo avendo un cambio di rotta, stiamo vedendo alcune, coin del gaming, che io avevo già, detto all'interno del gruppo Cowboy, che ha iniziato a spingere, quindi insomma, vediamo, come in generale, abbiamo, 21 miliardi, vediamo in questo momento, ad esempio BIM, che va a fare un 16%, giusto per dare un'idea, e insomma, si possono fare bei numeri, anche per quanto riguarda il gaming, per questo motivo, ho deciso, 29 febbraio, ore 21, andiamo a sfattare un po' la sfiga, pumpa, sbanca e scampa, anno bisesto, anno funesto, che per noi non sarà assolutamente così, quindi ti ricordo, iscriviti, lascia i tuoi dati, e ti aspetto letteralmente dentro, il 29 febbraio, alle ore 21, e per cui ci è piaciuto questo video, ti ricordo di, di suggerire il like, di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo, presto, hasta la vista, ombre.